Nuova sfida di calcio su FIFA 23 che non avete mai visto Lasciate like e iscrivetevi per vedere altri video del genere Non sapete come sarà questo video ma fidatevi sarà una cosa straordinaria Questo video è realizzato in collaborazione con il sito www.calcio2024it.com dove puoi trovare tutte le maglie dei club di calcio internazionali Le ultime che ho preso io sono queste due e anche quella che indosso Abbiamo la maglia del Napoli con la figura di Kim Min-ye per ricordarci il grande lavoro di difesa che ha fatto questo giocatore coreano e il suo contributo alla vittoria dello scudetto della stagione appena passata E poi abbiamo la nuova maglia della Juventus stagione 2023-2024 Queste e altre maglie di calcio le potete trovare con lo sconto del 10% usando il codice CRI CRI sul sito www.calcio2024it.com Questa è una taglia M ed è perfetta per me che sono alto 1,72m e ora la indosso Anche la maglia del Napoli ho preso una taglia M ma sul sito provate tutte le taglie dalla vostra misura indossiamo anche questa Bellissima Cerca anche tu la tua maglia della squadra preferita sul sito www.calcio2024it.com Trovi il link in descrizione Siamo su Ultimate Team e questa che voi ancora non vedete è la miglior squadra che io sono riuscito a costruire Oggi la userà Cristian contro un avversario online casuale e fortissimo E la sfida consiste nel rimanere a porta inviolata senza subire gol per il massimo numero di minuti Ogni minuto Cristian guadagni un euro Vi presentiamo la squadra Guardate la carta a destra in alto attaccante a 99 di overall chi sarà? Scrivetelo nei commenti per indovinarlo E prima di arrivare al super attaccante iniziamo dal portiere Scesni E poi dalla nostra difesa centrale Bremer, Turam? Non è Turam ma è Tomori ma va bene lo stesso andiamo a vedere il terzino sinistro Toco e Cambi Terzino destro Florenzi Esterno sinistro Links Esterno destro Vampire Sea Vampire Sea Vampire Sea Si Si Centrale Seedorf Si Quiz In quale squadra ha giocato in passato Seedorf? La principale In Italia L'altro centrale Socrates L'attaccante sinistro Müller E ora Rullo di tamburi Chi è il nostro giocatore più forte con 99 di overall? Se l'avete indovinato siete bravi ed eccolo qua Ronaldo Uno sguardo velocissimo alla nostra panchina Abbiamo Modric, Gomez, Forlan, Lewandowski, Martinez, Varela e Bled Bad Perfetto Ora siamo pronti per scendere in campo Io giocherò così Con un elastico in mezzo al controllo Perfetto Andiamo su Rivals Ok Division Rivals Entriamo in campo Andiamo a vedere quale sarà il nostro avversario Gioca Rivals Questa è la nostra squadra Questo è il nostro avversario Hanno un giocatore Attaccante sinistro 99 Leao Leao E poi di forte Anche Fernandez Danfries In attacco chi hanno? 96 E' uno dell'Inter Non lo conosci? Vabbè Sono anche Rabiot Allora ti ricordo Devi rimanere a reti inviolate Se subisci un gol Il video finisce Per ogni minuto che riesci A rimanere in campo Senza prendere gol Guadagni un euro A fine sfida Vedremo quanto avrai guadagnato Se mi arrendo Non puoi arrenderti Devi giocare Puoi anche fare Passaggi così Per tenere possesso palla Insomma Devi trovare la tua strategia Per durare di più In campo Senza prendere gol Intanto sono passati già due minuti Hai guadagnato due euro Ok Ha preso la decisione Di fare questa strategia Di possesso palla Nella sua metà campo Però è un po' pericoloso Io ti consiglierei Di andare nella loro metà campo Ok Attacca Attaccano Attaccano Di bala tira Stava per esagnare Salva Salva Siamo a 4 minuti 4 euro guadagnati 5 minuti 5 euro guadagnati Müller Ah se fai gol Hai un bonus Hai un bonus Un jolly Che poi ti spiego cosa serve Cerca anche di fare gol Così potrai Continuare Anche se prendi gol Allora 6 minuti 7 7 minuti 7 euro guadagnati Cristian è concentratissimo Non farsi fare gol Intanto i minuti I minuti passano I minuti passano E il mio portafoglio Si alleggerisce Perché devo già dargli 9 euro Sono passati 9 minuti Senza prendere un gol Siamo su Division Rival Online Contro una squadra Fortissima Ce la fa Ce la fa Ce la fa Resistere Ha una difesa Fortissima Grande 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 Para Scesni Para 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 E salva Siamo a 11 minuti E sono 11 euro Un campo largo Perché devo Vedere tutto il campo Non posso vedere Un microbo di campo Ti consiglio Tribuna stampa Come visuale Se vuoi vedere tutto il campo No non mi serve tutto Mi serve un po' Ok Ha cambiato lo visuale Di campo Potrebbe essere Alla fine ho tolto l'elastico Perché gli dava fastidio Oh no Gol Gol 11 11 minuti 11 minuti Che facciamo Il video dovrebbe finire qui Hai guadagnato 11 euro Questo è il premio Che ha vinto Cristian Una banconota da 10 euro Più una moneta da 1 euro 11 euro Per aver mantenuto La porta inviolata 11 minuti Su Ultimate Team Ecco a te Cosa ti comprerai? Un gelato Un gelato da 11 euro Che è veramente grande Intanto Cree of Cam Ha voluto Continuare la partita Vi facciamo vedere Le azioni salienti Della partita condotta da Cristian Vabbè c'è solo un gol Quella di Müller Per vedere Come è finita Se vuoi commentare Cree Questo qua è il Primo gol Il gol che ti hanno fatto In rovesciata In rovesciata All'undicesimo E Szczesny Non ci arriva Per un pelo Però poi Hai subito pareggiato Mi sembra Con questo bellissimo Filtrante Prendi il palo Prendi il palo Tutto trema E poi Pallo di Ronaldo Rimpallo su Müller Gol E a questo punto Cosa succede? Gol di testa Gol di testa Di Leao Di Leao Che salta più in alto Di tutti E Buca ancora una volta La porta di Szczesny Che non ci arriva Rovesciata Sul calcio d'angolo Ancora una volta Szczesny Non ci arriva Sono davvero Senza parole E poi l'ultimo gol L'ultimo gol Che hai subito Qui c'è un fallo Di Bremer Sull'avversario Dalla lunga distanza Mi sembra Tira E la palla Prende una traiettoria Impossibile Per Szczesny Lasciate like Se volete Video Del genere Ciao